Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come formattare un harddisk o un ssd su windows 10 o windows 12 ovviamente come formattare completamente un disco quindi in questo caso vai direttamente sul logo di windows 10 o windows 11 qua sopra su start tasto destro sopra su gestione disco ovviamente una volta andate su gestione disco questi sono i nostri dischi eccoli qua ovviamente io adesso vado così a formattare un disco che ho qua sopra faccio tasto destro sopra formatta etichetta di volume questo è il volume da formattare la lettera del volume mi raccomando state attenti a quale disco formattate mi raccomando guardate anche la lettera che sta sulle cartelle questo pc eccolo qua disco locale c d e e questa invece è y a me quindi esegui formattazione veloce e basta e faccio ok la formattazione di questo volume ne cancellerà tutti i dati quindi come ho detto farà una formattazione completa sul disco e fai ok ed ecco che ha formattato così il disco tutto qua questo era quindi se per caso avevi dei file o applicazioni che non servivano più potevi direttamente andare su gestione disco e fare formatta hai fatto oppure vuoi sempre formattarli attraverso tasto destro sopra questo qui siamo sul disco e qui c'è scritto formatta ed eccolo qua formattazione veloce e fai avvia eccolo qua quindi se questo video ti è stato utilissimo su come formattare completamente un artesco un ssd su windows 10 o windows 11 iscriviti lascia un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao